Buongiorno, buon martedì 16 marzo, ben ritrovati dalla redazione web della città, oggi una bella giornata di sole, vedete un po' di foschia alle mie spalle, ma la telecamera è quella che inquadra la città a partire dalla collina, da Villa Gualino, tra poco vedremo qual è la situazione del tempo prevista per oggi, intanto come sempre iniziamo con le notizie di viabilità, la viabilità per quest'oggi ce la dice come sempre Walter Gelbi della Centrale Operativa dei Vigili Urbani di Torino. Walter, a te. Le notizie di oggi, in collegamento con la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale di Torino. Buon martedì 16 marzo, le notizie di oggi, rallentamenti in via Pietromicca all'altezza del Civico 20 per lavori, divieto di transito in un tratto di via Gandolfo per lavori edili, occupazione anche di una piccola parte di piazza Solferino, divieto di transito in via Angrogna tra via Guidorei e corso Montecucco per lavori edili, per lavori GTT, rallentamenti in corso Tassoni angolo via Marsigli, semafori in manutenzione, dalle 9 alle 10 in via Orvieto angolo corso Brin, dalle 10 alle 11 in corso Umbria angolo via Livorno, dalle 11 alle 12 in corso Umbria angolo via Don Bosco, dalle 12 alle 13 in corso Regina Margherita angolo corso Principe Odone, dalle 14 alle 15 in corso Principe Odone angolo via Maria Ausiliatrice, dalle 15 alle 16 in corso Principe Odone angolo via Pesaro. Al palasporto del Parco Ruffini prove concorsuali impiegati e amministrativi città di Torino. Alle ore 18 e 30 in strada comunale Mirafiori consiglio di circoscrizione nel quartiere 10 Mirafiori Sud, al parco della Pellerina cicloturistica per i giochi d'argento. È tutto, buona giornata, buon viaggio! Bene, grazie Walter per le notizie di viabilità, noi passiamo come detto a vedere la situazione del tempo, mentre vi parliamo qualche nuvola si sta affacciando sul cielo della città, ma in realtà la previsione per quest'oggi è di cielo sostanzialmente sereno, le temperature le vedete alle mie spalle, anche questa mattina iniziano a salire, ci avviamo sempre più verso temperature primaverili, oggi le previsioni sono di raggiungere temperature massime intorno ai 15 gradi nelle ore più calde della giornata, come detto sarà una giornata caratterizzata sostanzialmente dal bel tempo e così dovrebbe essere anche la giornata di domani. Passando a vedere quelli che sono gli appuntamenti istituzionali previsti per la giornata di oggi, vi segnalo che come tutti i martedì, oggi alle 10.30 a Palazzo Civico in sala dell'Orologio ci sarà la riunione della giunta comunale, al termine della quale alle 12.30 ci sarà una conferenza stampa di presentazione del centro polifunzionale di servizi di via Marsigli, alle 14 poi ci sarà la conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale e poi alle 19.30 questa sera al Teatro Leggio l'assessore Alfieri parteciperà alla prima dell'opera Tannhauser. Noi passiamo a vedere quelle che sono le notizie di Torino Click, la nostra agenzia quotidiana che trovate in formato PDF a partire dalla nostra home page curata dall'ufficio stampa rapporti con i media, due le notizie selezionate per questa mattina, la prima riguarda Piazza Castello perché sono state rimosse da qualche giorno, probabilmente ve ne siete accorti, le fioriere che ornano la piazza, questo perché sono state portate all'interno dei magazzini comunali per le tradizionali opere di manutenzione una volta finito l'inverno, ebbene tra qualche giorno saranno rimesse a nuovo e saranno riposizionate nella piazza con circa 3.000 viole colorate che sono coltivate all'interno delle serre comunali, ci sarà anche una nuova disposizione degli arredi nella piazza, quindi sia le fioriere sia le panchine per favorire il sedersi dei cittadini sulle panchine e non più sulle fioriere come succedeva negli ultimi mesi. La seconda notizia invece riguarda una mostra che sta avendo molto successo alla Biblioteca Civica Centrale in via della Cittadella numero 5, una mostra dedicata all'emigrazione piemontese nel mondo, una storia millenaria, così dice il titolo dell'esposizione, che è in programma fino al 3 di aprile, ci sono una serie di pannelli fotografici e di documenti che provengono dal testo L'emigrazione piemontese nel mondo di Giancarlo Libert, pubblicato col sostegno della regione Piemonte, sono stati circa 2 milioni tra il 1876 e il 1925 i piemontesi che sono emigrati nel mondo e ad oggi si contano, compresi i discendenti, circa 4 milioni di persone. La mostra vi ricordo che è visitabile il lunedì dalle 15 alle 19.55 e poi dal martedì al venerdì dalle 8.15 alle 19.55 e il sabato dalle 10.30 alle 18.00, l'ingresso ovviamente gratuito. Andiamo a vedere anche le notizie dalla nostra home page, andando a posizionarci sulla prima pagina con l'aiuto di Mario Parenna, la notizia scelta per voi questa mattina è quella relativa al servizio Help Donna, un servizio sperimentale e gratuito di teleassistenza via cellulare che la regione Piemonte sta appunto sperimentando, è attivo per le donne residenti nella città di Torino, vi permette sostanzialmente di fare intervenire rapidamente amici e parenti in caso di bisogno, oltre ovviamente alle forze dell'ordine. Trovate le modalità per poter usufruire del servizio che ripeto è gratuito a partire dalla nostra notizia in prima pagina. Diamo un'occhiata al traffico in città, lo facciamo come sempre con le telecamere del Consorzio 5T che sono disseminate in città, qui siamo in Corso Agnelli e angolo Corso Cosenza, zona sud, vedete qui il sole splende e abbiamo una situazione di traffico assolutamente tranquilla in questo punto nevralgico della città. Corso Moncalieri, all'altezza del Ponte Isabella, qualche auto sul ponte ma anche qui traffico sostanzialmente tranquillo e sole che splende, così come dietro la stazione di Porta Nuova in Corso Turati, angolo Corso Sommelier, un po' di traffico in uscita dalla Crocetta ma nessun problema al momento. Qualche problema in più ce l'abbiamo invece su Corso Vittorio all'angolo con Corso Massimo D'Azeglio, sia in direzione Po che in direzione Porta Nuova. Bene, è tutto anche per questa mattina, grazie per averci seguito, vi ricordo alle 13 l'appuntamento con l'edizione in lingua araba del notiziario quotidiano e poi quest'oggi alle 16.15 la nostra edizione culturale con gli appuntamenti per la serata in città. Grazie a Mario Parena per la messa in onda, a voi l'augurio di una buona giornata.